bene siamo giunti quindi dopo il nostro step up aggiungiamo e lo abbiniamo sempre come il solito recupero zero se volete con delle cavigliere le abduzioni ok quindi sollevo la gamba tesa con il piede a martello tutto quello che riesco senza compensare la posizione col bacino se riuscite a mantenere la posizione in side plank va bene spalla lontano dall'orecchio e controllo dell'addome ed eseguo il movimento senza lasciare andare del tutto se questo vi risulta difficile lo potete fare a terra se siete in palestra andrà benissimo un abductor machine nella quale cercherete di aprire al massimo e controllare il movimento mi raccomando non stranciate durante gli esercizi alla prossima